Oggi per festeggiare la giornata internazionale della donna, voglio condividere con voi un pensiero che mi sta particolarmente a cuore. Sì, parliamo di indipendenza, quella capacità incredibile che tutti abbiamo dentro di noi di prendere l'eredine della nostra vita e farla funzionare al meglio. Qui va il mio augurio speciale per voi, che possiate trovare un lavoro che vi appassioni, che vi faccia sentire realizzate e vi permette di essere economicamente indipendenti. Eh sì, so che può sembrare spaventoso, ma non abbiate paura di dare una svolta alla vostra vita se sentite che è necessario. La strada potrebbe essere un po' accidentata, ma credetemi, ne varrà la pena. E che dire dell'amore? Quante volte ho sentito idealizzare un partner solo perché sembrava avere un lavoro di prestigio o un conto in banca promettente? Bene, è tempo di dire basta a questa superficialità. L'amore vero non si basa sul saldo del conto corrente, ma sulla connessione e sull'affetto reciproco. E poi, non dimentichiamoci di accettare noi stesse per chi siamo, senza lasciarci condizionare delle aspettative della società. Che siate madri o no, che amiate indossare abiti stravaganti o classici, che vi trucchiate o meno. L'importante è essere autentiche e sentirsi bene con se stesse. Infine, un appello alla solidarietà femminile. Invece di giudicarci a vicenda, diamoci una mano e sosteniamoci l'un l'altra nei momenti di difficoltà e gioia. Quindi ragazze, oggi celebriamo la nostra forza, la nostra indipendenza e il nostro amore per la vita. Siate audaci, siate autentiche, siate voi stesse. E soprattutto, non dimenticate mai di alzarvi per le vostre compagne di viaggio.